E' una Feralpi Salò da applausi, è una Feralpi Salò in viaggio verso grandi traguardi. Leoni del Gardi inarrestabili nella marcia d'avvicinamento all'obiettivo chiamato play-off dopo la bella e netta affermazione nel derby dell'Acciaio contro la Cremonese. Un 4-2 a dimostrazione della forza del gruppo allenato da Imodiana in grado di neutralizzare la compagine grigio-rossa mettendo in mostra un gioco da squadra di categoria superiore. Due gli eroi di una serata destinata a passare nella storia del calcio gardesano sono Loris Tortori e Federico Maracchi gli autori dei gol con una doppietta testa con i quali i Leoni del Gard hanno spazzato via la resistenza degli avversari. Eppure la serata magica dei Verde e Blu si apriva con il gol del vantaggio della Cremonese a siglarlo al nono minuto di gioco e Rabrighenti bravo a freddare Caglioni a tu per tu con il portiere gardesano. Ma al 24esimo la Feralpi Salò raggiungeva immediatamente il pareggio grazie ad una rovesciata d'antologia di Loris Tortori con il trottolino di Diana a piegare le mani a Ravaglia. Il gol scuoteva i ragazzi dell'ex difensore di Brescia, Palermo e Sampdoria tanto da raggiungere al 24esimo il raddoppio con Maracchi e calare poi il trisse con il secondo gol personale di serata di uno scatenato Loris Tortori. Nella ripresa il ritmo di gara imposto dalla Feralpi Salò metteva nudo le difficoltà della squadra di Rossitto e così al 57esimo Maracchi ancora lui calava il poker in un tripudio di gioia generale. Il gol di Brighenti a nove minuti dal termine non macchiava la festa dei Leoni del Garda sempre più secondi in classifica e sempre più rivelazione della stagione.